Alba lancia un sondaggio con il nostro giornale per scoprire il suo DNA. Studio dell'IRS, lo stress test della pandemia cambia il Piemonte. C'è molto da fare nel biologico e servono addetti nel turismo. L'assistenza agli anziani punta sulla domiciliarità e la tecnologia viene in aiuto nelle langhe. L'Ancalau premia un'app per chi soffre di apprendimento. Per l'osteria della tradizione, Filippo di Albaretto. La Caritas albese produce la birra della solidarietà. Mieli Cazzullo Giletti e il ministro Germini ad Alba capitale d'impresa. Segnali di crisi nel comune di Alber, sindaco di Braffa e il bilancio a metà mandato. Parte Monfort in Gezia con fresso e di buonaventura. Neive ricorda il padre della Cinquecento. Santa Vittoria a Bellite sperandosi al botanico Bertero. Matteo Ascheri confermato al consorzio Totela Vini e Terra del Barolo punta sulla Cina. Matteo Sobrero campione nel ciclismo a cronometro. Questa e tant'altra notizia su Gazzetta d'Alberedicole e online dal martedì.